lascia perdere è un insegnante salve brandy davis vince sì lo so e tu chi sei una che conosce tutti e che si occupa di far incontrare la gente cosa ti fa pensare che non mi piacciono le insegnate non fare il furbo vince con me non funziona sai no cosa vuoi allora sincerità tu cerchi clienti e io fornisco accompagnatori tieni ho bisogno del tuo aiuto ti farò guadagnare dieci volte di più di quello che prendi da solo se ti interessa passa da me domani sera ti va bene alle nove e se non passo ti aspetto